Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché non è ancora chiaro il movente dell'omicidio di Antonio Bevilacqua, il 21enne Roma assassinato nel pub Birrami di Montesilvano. Il vero motivo del delitto potrebbe essere chiarito nell'interrogatorio di garanzia di Massimo Fantauzzi che sabato mattina si è consegnato ai carabinieri confessando l'omicidio, tutti particolari nel servizio di Alfredo Primante. Sono io, sono qui. Queste sono state le prime parole di Massimo Fantauzzi dette agli uomini della pattuglia dei carabinieri nell'atto di consegnarsi sabato mattina stremato da otto giorni di fuga nelle campagne, non molto lontano dalla sua abitazione di frazione con l'evento alta a Montesilvano Colle. A raccontarlo sono stati i carabinieri del comando provinciale di Pescara che in conferenza stampa oggi hanno anche mostrato l'arma del delitto, un fucile da caccia a canne mozze con matricola a brasa che lo stesso Fantauzzi ha fatto rinvenire agli investigatori indicando dove lo aveva gettato, cioè nelle campagne di Ortona dei Marsi. Secondo la ricostruzione dei militari dell'arma dopo l'omicidio di Antonio Bevilacqua, la notte tra il 15 e il 16 settembre, Fantauzzi ha lasciato il pub Birrami di Via Verrotti a Montesilvano saltando in sella la sua moto, una Honda CBR 600, e fuggendo verso la Marsica. Qui ha abbandonato l'arma del delitto in una zona poco abitata e abitualmente frequentata da motociclisti per poi tornare indietro verso Pescara. Dopo essere uscito dall'autostrada, ha abbandonato la moto gettandola nel fiume Pescara sotto il ponte delle fascine a Cepagati, lì dove è stata ritrovata sabato pomeriggio, facendo perdere così definitivamente ogni traccia di sé. Se la dinamica della fuga è abbastanza chiara, il movente di un omicidio così efferato non lo è affatto. Dato acquisito è il litigio fra Fantauzzi e Bevilacqua avvenuto un'ora prima del delitto, sempre davanti al pub Birrami. Litigio confermato dalle immagini di sorveglianza e dalle testimonianze degli avventori del bar. I due, dicono i carabinieri, si conoscevano, questo è certo, ma non ci sono riscontri sul vero motivo alla base del diverbio. Un giro di droga, un debito di gioco, il movente resta un mistero che potrebbe però essere svelato nel corso dell'interrogatorio di garanzia di Massimo Fantauzzi che non è stato ancora però fissato. Che cosa abbia causato questo diverbio in questo momento è allo studio e all'esame ancora di chi sta indagando. Per cui insomma anche e soprattutto alla luce dell'arresto del Fantauzzi plausibilmente renderà delle dichiarazioni se lo ritiene opportuno, altrimenti si avverrà della facoltà di non rispondere, ma comunque noi dobbiamo attendere anche su questo aspetto le eventuali dichiarazioni del Fantauzzi. Il 46enne pizzaiolo che ora si trova in carcere, in isolamento, anche per evitare ritorsione da parte dei detenuti legati alla comunità Rom, come è accaduto alla sorella nel carcere di Chieti, ha già confessato il delitto. I carabinieri hanno confermato che nelle perquisizioni nella sua abitazione hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana e una pistola e hanno anche detto che allo stato attuale non ci sono altri indagati per l'omicidio del 21enne Rom e oltre non risultano persone che abbiano appoggiato la fuga di Fantauzzi. Ci spostiamo all'Aquila adesso perché il caso dell'asilo occupato di Viale, Duca degli Abruzzi, diviene terreno di scontro politico. L'ex sindaco Cialente replica e difende le sue scelte. Domani la mozione presentata da un consigliere di Forza Italia arriva appunto in consiglio. Chiede lo sgombero di un asilo vuoto dallo scorso gennaio. Il servizio di Daniela Rosone. Domani in consiglio comunale sarà di certo battaglia dopo la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Roberto Junior Silveri che chiede lo sgombero dell'asilo occupato, l'asilo di Viale, Duca degli Abruzzi, reso inagibile dal sisma che dal terremoto in poi è stato luogo di incontro e di ascolto, crocevia di tante iniziative culturali in una città senza più spazi di aggregazione. Accusato da Silveri e dall'attuale amministrazione, il sindaco Massimo Cialente replica stizzito e difende la scelta di far convivere lì tante associazioni, anzi accusa l'attuale maggioranza di creare un clima pericoloso con questa iniziativa. L'amministrazione, dice Cialente, si stava preoccupando anzi di trovare delle alternative a queste associazioni rimaste senza un punto di appoggio dopo il 18 gennaio, anche perché prima o poi all'asilo dovranno iniziare i lavori. Per Cialente tal'emozione rappresenta un punto di non ritorno nel clima sociale e che la responsabilità politica, dice, è tutta del sindaco Biondi, avrebbe dovuto bloccare l'azione dell'impavido consigliere. Cialente conclude dicendo che spera che Biondi impari presto perché in tre mesi non ha fatto nulla di suo. Sulla questione diverse ovviamente sono state le reazioni politiche, Ettore di Cesare di Appello per l'Aquila, ma anche Carla Cimoroni, che si adeora in consiglio tra i banchi dell'opposizione. Il clima si annuncia infuocato domani. La Cimoroni, commentando la mozione, ha detto rappresenta di certo la ricerca di visibilità di un consigliere che evidentemente non ha altro da fare, infatti ha già superato dai fatti. L'asilo è vuoto da gennaio per questioni di sicurezza, avendo riportato ulteriori danni a seguito dei terremoti dei mesi precedenti. Sono state organizzate alcune attività all'aperto, ha detto, soltanto per raccogliere fondi così da pagare le utenze intestate alle persone che hanno liberato, non occupato, lo stabile. I ragazzi stessi che nell'ultimo periodo hanno preso contatto col sindaco dell'Aquila per avere uno spazio dove proseguire le attività conclude. La procura di Rieti vuole vederci chiaro dopo la denuncia del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, relativa alla gestione degli SMS di solidarietà post-terremoto. La protezione civile nazionale dice che nessun soldo è sparito, sono andati a progetti che sono stati presentati. Vediamo. La procura di Rieti apre un'inchiesta dopo le dichiarazioni shock del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, che ha denunciato la scandalosa sudire gestione degli SMS solidali della protezione civile nazionale. Parliamo di oltre 33 milioni di euro. Nulla è mai arrivato nelle casse del comune colpito dal sisma e neanche ad Accumlio e Arquata del Tronto. Per il sindaco i soldi sono stati destinati ad altro e non a emergenze legate strettamente al sisma. che decidono di non dare niente, né Amatrice, né Accumlio, facendo delle scelte totalmente diverse. Le marche avevano ipotizzato all'inizio di fare anche una pista ciclabile a Civitanova e capisci che qualcosa che non funziona c'è. Che voglio dire? Sbaglio perché non viene rispettata la volontà popolare. Due secondo sbaglio. Noi creiamo un sistema dove nessuno che crede più a niente. Questo è devastante. Perché significa che il messaggio che passa nell'opinione pubblica non è vero più niente. E quando non è vero più niente si mettono nel gioco. Sia le brave persone che le gattive persone. E questo è stato fatto solo ed esclusivamente per la civiltà dei clienti. La protezione civile nazionale ha replicato dicendo che nessun soldo è sparito, ma che i fondi sono andati a quei comuni che hanno presentato dei progetti. 18 per l'esattezza ai progetti presentati. Ma come dicevamo la procura di Rieti apre un'inchiesta anche se è probabile che il fascicolo finisca pure nella procura della capitale. La suddivisione dei fondi in questo caso è stata dunque decisa da una cabina di coordinamento di cui fanno parte il commissario straordinario e le quattro regioni interessate che hanno raccolto le istanze dei territori. Ma da matrice nulla. Devono chiedere scusa agli italiani. Hanno deciso una commissione di saggi, che tanti saggi non sono, ma secondo me devono chiedere scusa a tutti quanti gli italiani, a quelle persone che mi hanno incontrato che ho comunque ringraziato perché quei due euro erano indirizzati lì. Questo è stato ed è un grave errore. Torniamo a parlare della vicenda Onewell perché sembra a rischio l'incontro del 2 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvertenza appunto dello stabilimento di Atessa. Si complica quindi la situazione per l'azienda franco statunitense che si occupa della produzione di turbocompressori per autovetture e veicoli commerciali e che attualmente occupa 420 lavoratori. La protesta si fa più forte ma soprattutto questa è la seconda settimana di sciopari quindi noi dobbiamo passare dalla protesta a cercare di trovare qualche soluzione. Quindi anche alla politica la domanda che mercoledì io farò sarà più forte nel senso che se stanno veramente tutti con noi, se stanno tutti con noi dobbiamo cercare di trovare una soluzione e per trovare la soluzione bisogna convocare l'incontro. Quindi ci dobbiamo fare tutti portavoce al Ministro per la convocazione di questo incontro. Non ci possono essere pregiudizi perché stiamo in sciopari. Stiamo in sciopari perché ci stavano chiudendo la fabbrica e ogni minuto che noi stavamo lavorando l'azienda lo usava per copiare i nostri codici e quindi per chiudere la nostra fabbrica. Questo è il motivo dello sciopari. Di fronte a questo io spero che tutti capiscono, l'Abruzzo faccia sistema e faccia arrivare questa unica voce al Ministro perché se no saremo costretti a inasprire le nostre proteste anche in altre sedi. Io spero veramente che ci siano incontri e non ci siano pregiudizi. L'azienda a speciale Multiservizi Chieti Solidale ha presentato i dettagli del sistema di monitoraggio tecnologicamente avanzato ed elaborato dall'azienda per monitorare la qualità dei servizi socioassistenziali erogati alla popolazione. Più che buona la performance misurata. Il servizio di Paolo Renzetti. Con il Presidente di Chieti Solidale parliamo di questo monitoraggio. Cosa è uscito fuori da questa indagine che avete portato avanti? Noi abbiamo incominciato a gestire questa nuova piattaforma, questo nuovo modello organizzativo già a fine aprile, inizio maggio. Abbiamo iniziato con un progetto sperimentale all'interno solo di pochi servizi per verificare anche la fattibilità del progetto e innanzitutto abbiamo cercato di dare questa oggettività, trasparenza e dare dei parametri di efficienza sia per noi stessi che ci andiamo a confrontare all'esterno, sia per quanto riguarda il Comune che ci affida i servizi e deve vigilare soprattutto sulla nostra attività, ma anche per i cittadini che usufruiscono i nostri servizi, che si devono sentire tutelati e anche i cittadini che non usufruiscono e che vogliono capire di più cosa fa Chieti Solidale e come vengono gestiti i soldi pubblici. Questo è un risultato importante perché abbiamo visto innanzitutto l'estrema professionalità dei nostri dipendenti, tutto il team dei servizi sociali ha erogato dei servizi ad alta prestazione e ad alta efficacia sulla popolazione residente a Chieti. Questo ci fa ben sperare in quanto il progetto entro la fine dell'anno verrà espletato su tutti i servizi gestiti da Chieti Solidale e dal piano di zona, sempre per dare una risposta puntuale alle esigenze del territorio. Abbiamo raccolto per ciascuna delle circa 60 prestazioni erogate degli standard, ne abbiamo descritto le volontà dell'azienda, abbiamo definito anche delle parametri, delle indicatori di performance, quanto siamo puntuali, quanto siamo professionali. È stato riqualificato complessivamente tutto il personale, sono stati dati degli indici obiettivo. Da oggi gli nostri operatori non possono tardare più di 10 minuti. Tutto supportato da tecnologia, quindi ogni azione viene perfettamente tracciata. L'operatore domiciliare ha uno smartphone, l'utente ha una smart card, si incontrano miracolosamente e ci segnalano quando ha avuto accesso al domicilio, quando è uscito e tutto viene calcolato in tempo reale. Vi assicuro che è un'iniziativa unica praticamente in Italia, di un modello così approfondito, di qualità, così controllata e certificata, tutto in forma trasparente. Tutti possono sapere che cosa avviene in tempo reale in favore delle persone assistite dal Comune attraverso l'azienda Chieti Solidare. Andiamo a Teramo adesso perché il progetto Lectus ha già coinvolto centinaia di terramani in tutte le età che si trasformeranno in lettori per una settimana. In ogni angolo della città dal 2 all'8 ottobre saranno declamati testi antichi e moderni in un grande rito collettivo, simbolo di resilienza alle difficoltà vissute in questi ultimi mesi. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Lectus sta per iniziare. Dal 2 all'8 ottobre a Teramo si consumerà un rito collettivo, la riconquista di uno spazio, quello della città spogliata, che utilizzerà la lettura e la conoscenza per esorcizzare la paura. Sono già centinaia i cittadini di tutte le età e di ogni professione che leggeranno brani tra i più svariati, dalla letteratura alla poesia, ma anche favole o documenti di politica e informazione, un esperimento culturale che sta creando grande attesa in città. La città ha risposto non bene, benissimo, anzi ci sta mettendo in serie difficoltà perché coordinare centinaia e centinaia di lettori, non solo Teramani, ma che vengono da Pescara, da Ascoli, non è stata cosa facile. Chi si è iscritto a leggere? Si sono iscritti più o meno tutti, proprio dalla casalinga, al meccanico, al muratore, l'avvocato, l'ingegnere, l'architetto, il popolo, la cittadinanza. Noi siamo partiti da un'idea, un'idea è piaciuta, è stata sposata. Cosa si leggerà? Ah, questa sì che è una domanda interessante. Allora, noi leggiamo lo scibile, lo scibile attraverso sia i libri, sia le riviste, sia documentazioni, carteggi, dichiarazione alla Camera, dichiarazione al Senato. Le location le avete già individuate? Sono 23, sono 23. Qui dove siamo adesso è la location per eccellenza perché è la polis. Poi abbiamo il Duomo, dopo 400 anni andiamo nel chiosto del Vescovo, davanti alla prefettura, nel ristorante San Matteo e no gastronomia, la biblioteca delfica ovviamente che è la madre di tutte le location. Vogliamo ricordare i giorni? Dal 2 all'8, ottobre, sì. Dal carcere 2, 3 e 4 nei luoghi al chiuso, dopodiché 5, 6, 7, 8 per finire all'ipogeo, questa grande kermesse notturna. Adesso apriamo l'ampia pagina di sport iniziando dal Pescara che reduce dal pareggio senza reti a Cremona. Lo Zini di Cremona contro la Cremonese. Difesa inviolata, quella dei Biancazzorri nell'ultimo turno di campionato. Di questo e anche delle prospettive di crescita della formazione di Zeman ha parlato il difensore bianco-azzurro, Cesare Povolo. Ascoltiamo. In campo si è visto però un Pescara poco zemaniano. La nota positiva è che per la prima volta in questa stagione la squadra non ha subito gol. Noi cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede il mister. Non sempre si può giocare sempre all'attacco, ci sono anche gli avversari. Loro hanno una squadra comunque complicata perché si chiudono bene e giocano sempre palla lunga. Quindi rimanere corti non è neanche facile perché giocando sempre su rilanci e seconde palle diventa difficile. Diciamo che prendiamoci questo 0-0 perché siamo magari da una parte contenti che abbiamo preso gol, però potremmo fare di più. Credo che abbiamo fatto una buona partita difensiva, anche i terzini si sono applicati, si sono stati più vicini a noi centrali. Credo che sia un lavoro di squadra. dobbiamo capire bene ancora tutti i meccanismi, gli autonomismi perché comunque non è facile trovare equilibri soprattutto con una squadra giovane come la nostra. Quindi ripeto, questo inizio di stagione ci deve servire per capire dove possiamo arrivare e soprattutto capire cosa bisogna fare per arrivare lontano. A proposito di obiettivi, questo inizio di stagione è stato un po' particolare. Sei partite, quattro pareggi, una vittoria, una sconfitta. Il Pescara oggi è ancora un'incompiuta probabilmente? Ma è un'incompiuta. A voi piace fare anche paragoni? Sei anni fa penso che abbiamo fatto anche ottime partite. Purtroppo siamo stati recuperati all'ultimo in diverse occasioni e abbiamo sbagliato, lo sappiamo anche noi. Ci dispiace, però credo che il Pescara abbia fatto anche buone prestazioni. Ripeto, una squadra che deve crescere sicuramente, è una squadra giovane, è una squadra che si deve scoprire. Ancora deve capire bene dove può arrivare e che le qualità ci sono. Scendiamo in Serie C adesso vedendo la schermata dei risultati del turno di campionato con il Teramo che viene sconfitto. Quattro a due al Bottecchia di Pordenone. Questi risultati al Binolef e Gubbio due a uno. Risultato che costa la panchina a Giovanni Cornacchini, ormai ex allenatore del Gubbio. Messe Tristina due a uno. Pordenone e Teramo come detto quattro a due. Ravenna-Modena uno a zero. Sud Tirol-Bassano uno a due. Vicenza-Feralpisalo uno a uno. San Mediettese-Padova zero a uno. Renata-Reggiana uno a zero. Sant'Arcangelo-Fermana uno a cinque. Riposava il Fano. Vediamo anche la classifica di questo raggruppamento con il Teramo che rimane a quota quattro punti in graduatoria e in vetta. C'è proprio l'avversario di ieri. Il Pordenone a quota tredici punti. Teramo a quattro punti esattamente come la Reggiana. Chiude la classifica il Modena a quota zero. Dunque un brutto Teramo quello che prende quattro gol a Pordenone. Vediamo. Il Teramo esce con le ossa rotte dalla terza trasferta in quattro gare di campionato. La sconfitta di Pordenone però non assomiglia per niente a quella di Vicenza perché se al mente il diavolo aveva tenuto botta fino alla fine ed era stato costretto a capitolare a causa di un rigore che ancora oggi pare assurdo. Al Bottecchia la squadra di Asta si squaglia prima ancora di scendere in campo. Lenta, distratta, su un campo che di certo non favoriva la stazia inferiore del Teramo che comunque ci ha messo tanto, tantissimo del suo per spianare la strada ai nero-verdi. E così il 4-2 sembra persino un buon risultato considerando le premesse. 37 minuti e 3-0 per i padroni di casa. In perfetto controllo al cospetto di una squadra fantasma. La cosa ancora più preoccupante è che la corazzata compatta e solida presentata da Asta nella conferenza pre-partita non si è vista affatto o per manifesta inferiorità bianco-rossa o perché col risultato già in cassaforte dopo pochi minuti era impossibile aspettarsi chissà cosa dai friulani che passeggiano, anzi danzano, sulle rovine di una squadra troppo fragile per rimanere in partita dopo il primo gol di Dejan Danza che gioca al posto dell'ex Lulli ma non lo fa rimpiangere assolutamente con una doppietta tra primo e secondo tempo a cui vanno aggiunte le marcature anche di Gerardi e Sainz. Quelle di Ilaria e Barbuti invece riescono solamente ad indorare un po' la pillola amara, amarissima da far scendere perché il risultato non è mai stato messo in discussione nemmeno per qualche istante col diavolo impantanato e svagato e che dovrà riflettere parecchio sui motivi di una prestazione tanto brutta da non poter essere considerata neppure attendibile. Il problema difensivo o comunque di fase difensiva va risolto al più presto considerando che domenica prossima arriva una fermana che ne ha appena fatti cinque al Sant'Arcangelo. Teramo non può permettersi altri passi falsi a stretto giro per non trovarsi subito nelle sabbie mobili della bassa classifica. Amadio molto probabilmente nell'incontro con i canarini non ci sarà. Il campo pesante e un infortunio non ancora perfettamente smaltito lo terranno lontano dal terreno di gioco. In più c'è da fermare lo scatenato Arturo Lupoli e il grande ex Marco Sanzovini. Asta ha una settimana per studiare le contromosse ma soprattutto per cancellare un teramo troppo brutto, per essere vero. Scendiamo in serie di, anche in questo caso, le schermate di risultati e classifica. Fabriano Castelfidardo 2 a 3, Jesina San Marino 1 a 0, Monticelli Recanatese 1 a 1, Nero Stellati Campobasso 1 a 2, giocata a sabato, Agnonese Francavilla 0 a 1, San Nicolò Pineto 4 a 3, San Giustese L'Aquila 1 a 0, Vastese Materica 0 a 2, Vispesaro Avezzano 2 a 1. Vediamo anche in questo caso la classifica con la Vispesaro che resta a punteggio pieno. Vediamo le abruzzesi, Francavilla L'Aquila e San Nicolò a quota 6 punti, la Vastese a quota 4, 3 punti per il Pineto, 2 per l'Avezzano, 0 punti per il Nero Stellati Pratola. Dunque derby scoppiettante, 7 gol a Morro d'Oro tra San Nicolò e Pineto. Alla fine, alla meglio, la squadra di Luca Campanile, il servizio di Roberta Di Sante. Festival del gol, ben 7 a Morro d'Oro con il San Nicolò che nel finale riesce a spuntarla sul Pineto nel derby della quarta giornata. La formazione di Amaolo in vantaggio di due reti si fa prima riacciuffare e poi superare con un rigore che fa discutere. Ma andiamo con ordine. Secondo derby stagionale per entrambe le compagini, solito 4-2-3-1 per Luca Campanile che lascia in panchina Capitan Petronio e si affida al tridente con chiacchiarelli di Benedetto e Maisto alle spalle della prima punta tedesco. Daniele Amaolo conferma il 4-3-3 recuperando Della Quercia in difesa e spostando Pezzotti in avanti nel tridente con Gragnoli e l'ex Bisegna. L'altro ex dell'incontro, Napolano, parte invece dalla panchina. Pineto che parte subito forte al nono sfiora il vantaggio con De Santis che si immola sulla linea a ricacciare la velenosa punizione di Bisegna. È il preludio al gol pinetese che arriva al diciottesimo e porta la firma di Pezzotti. Intuizione di Zane che vede l'ex capitano della Samb sulla sinistra e lo serve. Pezzotti brucia sullo scatto ondiaie e insacca all'angolino opposto per lo 0-1. Il Pineto spinge e al ventesimo Bisegna sfiora il raddoppio su punizione sugli sviluppi del corner. Poi esposito calcia al lato. L'avvio del Pineto è bruciante e al ventiquattresimo i biancazzurri adriatici mettono a segno il 2-0 con Gragnoli che raccoglie l'invito di Mariani e di testa spedisce la sfera in fondo al sacco. Dopo il raddoppio tre minuti di blackout per il Pineto che dal 2-0 si fa rimontare vanificando tutto quanto di buono fatto fino a questo momento. Prima al ventinovesimo Maisto se ne va sulla destra e supera con un pallonetto Giacchetta accorciando le distanze. Poi al trentunesimo Di Benedetto in contropiede sorprende la difesa Pinetese e completa la rimonta. La gara è accesa e godibile con le due squadre che si danno battaglia a favore dello spettacolo. Nel finale di primo tempo si passa dal possibile 3-2 per il San Nicolò con Maisto che al quarantesimo raccoglie il corner di Chiacchiarelli ma schiaccia troppo con la sfera che si impenna al 2-3 in favore del Pineto che si concretizza al quarantaduesimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna Pezzotti il migliore in campo raccoglie il filtrante di Gragnoli firmando la doppietta personale. In avvio di ripresa Campanile sostituisce Belchef con Fabriani e Chiacchiarelli con Massetti. La mossa si rivela vincente. Infatti proprio il neo entrato al nono firma il 3-3 con una semi rovesciata da applausi. Euro goal per il classe 96 che trascina il San Nicolò che rientra in campo con un altro piglio e complice il calo del Pineto ora insiste e al diciassettesimo sfiora il poker. Ancora Massetti in contropiede costringe Giacchetta al miracolo coi piedi. Soffre ora il Pineto che non è più quello del primo tempo e il San Nicolò prende campo. Al 24esimo Napolano è provvidenziale sulla linea a ribattere il colpo di testa di Moretti. Poi cala, spedisce alto. È un vero e proprio derby senza esclusione di colpi ma per deciderlo nel finale serve un episodio. Siamo al 43esimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato di Petronio il direttore di gara Panettella sanziona con la massima punizione un presunto fallo di Pepe su De Santis tra le proteste pinentesi. Dagli undici metri Maisto spiazza Giacchetta e regala la gioia dei trecenti al San Nicolò che può festeggiare la seconda vittoria consecutiva. Tanta amarezza invece in casa Pineto che incassa la terza sconfitta in quattro partite. Vittoria invece per il Francavilla al Civitelle di Agnone. Basta una rete di Palumbo ai giallorossi per avere la meglio. Dei Granata invece sconfitta interna per la Vastese contro il Matelica. Vice capolista, i servizi. Finisce 0-1 al Civitelle tra l'Olimpia agnonese e il Francavilla. Dopo un avvio piuttosto soporifero in cui si è fatto fatica a far decollare il match abbiamo assistito a un buon finale di primo tempo. Intanto solo al diciannovesimo abbiamo registrato una delle poche azioni degne di nota fino ad allora. Con una buona occasione sciupata dai padroni di casa. Ci prova Margherita, spacca e respinge e sulla ribattuta Nyang manda alto. Al trentunesimo è Zerbo che cerca il vantaggio dalla sinistra ma Faiella si fa trovare pronto. Passano quattro minuti e i giallorossi conquistano il vantaggio con un tiro di Palumbo dai 25 metri che finisce sotto l'incrocio dei pali. Sul finale al quarantunesimo ecco l'occasione del pareggio Granata. Su angolo di Margherita ma Cassese di testa manda fuori. Su vantaggio giallorosso si va negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci eccoci nella ripresa. Padroni di casa sembrano crederci un po' di più mentre gli avversari amministrano il vantaggio senza grossi scossoni. Al sesto è Nyang che ci prova dalla sinistra ma spacca si fa trovare pronto. Al quindicesimo altra occasionissima per i Granata che arriva su calcio piazzato ma il tiro potente di Margherita viene deviato in angolo. Al ventesimo si fanno rivedere gli abruzzesi con l'uomo del giorno Palumbo. La palla sfiora appena l'incrocio dei pali. Al ventiduesimo è sempre Palumbo che ci prova dalla distanza ma Faiella si tuffa e salva tutto. Sul finale al quarantaduesimo ecco un episodio da Moviola. L'agnone protesta per un fallo di mano di Romeo proprio sulla linea dell'area ma per il direttore di gara alla bianca della sezione di Foggia è tutto regolare ed è regolare anche il contatto su Santoro. Poi più nulla fino alla fine del match con il Francavilla che se ne torna a casa con tre punti importantissimi e l'agnone che deve rivedere qualcosa soprattutto dal punto di vista emotivo e diventare molto più cinico se vuole ottenere i risultati. Nella sfida fra due formazioni ambiziose ma entrambe reduci da un passo falso la spuntata per 2 a 0 il Matelica che si conferma bestia nera delle abruzzesi dopo i successi con Pineto e San Nicolò i ragazzi di Tiozzo sono riusciti a fare bottino pieno all'Aragona anche con la vastese al termine di 90 minuti combattuti. Per gli abruzzesi di Colavitto che per quanto fatto nella ripresa avrebbero forse meritato il pari si tratta del secondo KO di fila dopo quello di Pineto e primo casalingo stagionale. All'Aragona la squadra di casa con Bagaglini al rientro dopo la squalifica si schiera con il solito 4-3-3. I marchigiani rispondono con un 4-3-1-2. Avvio di gara di studio fra le due squadre con gli ospiti che si affacciano per la prima volta dalle parti di Camerlengo al sesto con Olivera che in area si gira concludendo però debolmente a lato. La formazione di casa cerca di fare pressione nella metà campo ospite facendo però i conti con una difesa ben piazzata davanti a Demalia. Al sedicesimo poi in uno scontro di gioco si infortuna il difensore bianco-rosso Iodice sostituito da Iarocci. Al diciannovesimo si rivede intanto la squadra ospite con un tiro alto di Losicco. Al ventunesimo però la vastese arriva ad un passo dal vantaggio con Stivaletta che crossa centro area per Cristaldi che riesce di testa solo a sfiorare la sfera che termina a lato. La gara resta però abbastanza bloccata con i due portieri di fatto inoperosi fino al trentaduesimo quando l'estremo Matelicese ed Emalia su tiro dalla distanza di Fiore a compiere il primo intervento degno di nota. La prima parata facile per Camerlengo arriva invece solo al quarantaquattresimo su conclusione tutt'altro che irresistibile di Gioe dai diciotto metri. Nella ripresa alla secondo subito vastese pericolosa con un colpo di testa di Leonetti che manca di poco il bersaglio grosso e una fiammata isolata visto che poi non accade più nulla. Il tecnico ospite vede la sua squadra piuttosto spuntata e decide così di gettare nella mischia al sedicesimo Magrassi per Gioe. Passa qualche attimo i marchigiani trovano il vantaggio con Losicco che di piatto mette la sfera alle spalle di Camerlengo su perfetto cross di Oliveira. Colavitto così decide di ricorrere a Bittai che entra al posto di Stivaletta. La squadra di casa cerca di spostare in avanti il baricentro del gioco ma si vede al venticinquesimo solo su punizione alta di Fiore. Al trentaseiesimo ancora vastese pericolosa con Leonetti che alza però sopra la traversa un pallone piuttosto invitante. Il forcing finale della formazione di casa vede al quarantesimo la respinta con i pugni di De Maglia su De Chiara. Ci prova poi anche Alberico al novantesimo ma non è giornata per i biancorossi visto che poi al quarantacinquesimo Magrassi nella più classica delle azioni di contropiede fa 2 a 0 chiudendo con qualche minuto di anticipo la contesa e domenica prossima i biancorossi di Colavitto saranno di scena ancora davanti al pubblico amico per ricevere la visita della Iesina. Una gara questa assolutamente da vincere. Questo era anche l'ultimo servizio per la seconda edizione del TG6. Io vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con Replay con Enrico Rocchi e i suoi ospiti per parlare del momento della Pescara. Il TG6 torna invece alle 23 con la terza edizione. È tutto, buona serata.